Risoluzione dei sistemi con disequazioni di secondo grado Il problema chiede di determinare le misure ammissibili per X sapendo che l'area della corona circolare deve essere compresa tra 44 pi greco centimetri quadrati e 56 pi greco centimetri quadrati. Iniziamo a scrivere l'area della corona circolare in funzione di X. Questa è la differenza tra l'area del cerchio di raggio 4 più X centimetri e l'area del cerchio di raggio 4 centimetri. Il primo ha raggio 4 più X e quindi area pi greco per il quadrato di 4 più X. Il secondo ha raggio 4 e quindi area pi greco per 4 al quadrato. La differenza delle due aree è pi greco per il quadrato di 4 più X meno pi greco per 4 al quadrato. Siccome vogliamo che quest'area sia compresa tra 44 pi greco e 56 pi greco, dobbiamo risolvere le disequazioni 44 pi greco minore di pi greco per il quadrato di 4 più X meno pi greco per 4 al quadrato minore di 56 pi greco. Iniziamo a studiare la prima disequazione. Per prima cosa, applichiamo il primo principio di equivalenza per le disequazioni e sottraiamo a entrambi i membri 44 pi greco. Poi, applichiamo il secondo principio di equivalenza e dividiamo entrambi i membri per pi greco. Svolgendo i calcoli, otteniamo che 0 è minore di X al quadrato più 8X meno 44. Per risolvere questa disequazione, ricordiamo dalla teoria che siccome il coefficiente del termine di secondo grado è positivo, la disequazione è verificata per i valori di X non compresi tra le radici dell'equazione associata. Per determinare la soluzione, dobbiamo quindi determinare le radici dell'equazione associata X al quadrato più 8X meno 44 uguale a 0. Utilizziamo la formula risolutiva, secondo la quale le soluzioni dell'equazione di secondo grado AX al quadrato più BX più C uguale a 0 sono uguali a meno B più o meno la radice quadrata di B al quadrato meno 4AC, tutto diviso per 2A. Nell'equazione che stiamo studiando, A, cioè il coefficiente del termine di secondo grado, è uguale a 1, B, cioè il coefficiente del termine di primo grado, è uguale a 8 e C, cioè il termine noto, è uguale a meno 44. Sostituendo questi valori nella formula risolutiva, otteniamo che le soluzioni della nostra equazione sono X1 e X2 uguale a meno 8 più o meno la radice di 8 al quadrato meno 4 per meno 44, tutto diviso per 2. Svolgiamo i calcoli e otteniamo che le due soluzioni sono meno 4 più o meno 2 radice di 15. Ricordiamo che X è la misura di un segmento e che quindi è positivo. Di conseguenza, la soluzione X uguale a meno 4 meno 2 radice di 15 non è accettabile. Quindi, i valori di X per cui l'area della corona circolare è maggiore di 44 pi greco sono quelli maggiori di 2 radice di 15 meno 4. Risolviamo allo stesso modo la disequazione pi greco per il quadrato di 4 più X meno pi greco per 4 al quadrato minore di 56 pi greco. Sottraiamo 56 pi greco da entrambi i membri e poi dividiamo per pi greco. Svolgendo i calcoli, otteniamo che X al quadrato più 8X meno 56 è minore di 0. Anche questa disequazione è verificata per i valori di X compresi tra le radici dell'equazione associata. Determiniamo quindi le radici dell'equazione associata X al quadrato più 8X meno 56 uguale a 0. Utilizziamo ancora la formula risolutiva. Questa volta, A, cioè il coefficiente del termine di secondo grado, è uguale a 1. B, cioè il coefficiente del termine di primo grado, è uguale a 8. E C, cioè il termine noto, è uguale a meno 56. Sostituendo questi valori nella formula risolutiva, otteniamo che le soluzioni della nostra equazione sono X, 1 e 2 uguale a meno 8 più o meno la radice di 8 al quadrato meno 4 per meno 56, tutto diviso per 2. Svolgiamo i calcoli e otteniamo che le due soluzioni sono meno 4 più o meno 6 radice di 2. Anche in questo caso, la soluzione negativa non è accettabile siccome X è maggiore di 0. Quindi, i valori di X per cui l'area della corona circolare è minore di 56 pi greco sono quelli compresi tra 0 e 6 radice di 2 meno 4. Combiniamo i risultati ottenuti in una tabella secondo le seguenti convenzioni. Scriviamo sulla retta orientata gli estremi degli intervalli che compaiono nel sistema. Rappresentiamo graficamente, incolonnati, gli intervalli soluzione. Evidenziamo la loro intersezione, cioè l'insieme dei valori che soddisfano contemporaneamente entrambe le disequazioni. Dalla tabella ricaviamo che i valori di X per cui l'area della corona circolare è compresa tra 44 pi greco e 56 pi greco sono quelli compresi tra 2 radice di 15 meno 4 e 6 radice di 2 meno 4.